Perché per fare il pittore edile bisogna essere molto pazienti? Qualcuno forse può pensare che bisogna essere molto pazienti perché magari non riesci a fare un profilo oppure devi aspettare il giusto tempo di asciugatura del prodotto o cose di questo genere. In realtà bisogna essere molto pazienti perché quando hai un'attività, una partita IVA, capita anche se sei un piccolo artigiano, non devi essere per forza un'impresa di quelle che fattorano milioni di euro, ti capita nell'ordine la ditta che da dieci mesi non paga e non sai neanche il motivo, cioè nel senso loro non ti dicono neanche il motivo, l'impresa che non paga da un anno e mezzo perché hanno problemi finanziari non ben definiti, però sai che è un'impresa che fattura milioni di euro e il titolare va in giro con la macchina nuova, compra la casa nuova e cose di questo genere. Poi hai la persona che invece ha dei problemi pratici nella fatturazione, magari lì va al 10% anziché al 22% perché deve fare la detrazione, che sono cose che la ditta deve saper fare, però comunque ci vuole un po' di pazienza per barcamenarsi su quello che devi sapere, su quello che invece aspetta al cliente, chiama al commercialista e cose di questo genere. La pazienza poi con l'operaio, l'operaio che non viene, l'operaio che sta male, la partita di là che ti dovrebbe aiutare che ha il figlio che sta poco bene, cose di questo genere che ti mettono sempre in difficoltà quotidianamente, poi c'è la ditta che invece ti passa abbastanza lavori però non ti salda mai, quindi ti fa fare sempre dei lavori a cascata, però il saldo non arriva mai, quindi praticamente tu hai fatto sempre un lavoro e loro ti devono sempre dei soldi e non arrivi mai al saldo. Cose di questo genere insomma, poi a tutto questo va aggiunto il tuo lavoro, cioè nel senso a questo bisogna aggiungere che tu comunque devi conoscere il tuo lavoro e saperlo fare in modo adeguato, perché se a questo poi ci si aggiungono delle problematiche anche lavorative che comunque possono accadere, allora lì poi le cose si accavallano e si arriva veramente al perché bisogna avere tanta pazienza per fare il pittore diverso.